Questo naturalmente non ci distrae dal fatto che è stato incontrato. Un processo dove una bella squadra ha lavorato insieme nel rispetto dei propri voli. E' un'esperanza in sicurezza perché erano certificati. Ci saranno delle implementazioni funzionali e il grande salto di qualità è quello dell'organizzazione della società di gestione che ha individuato delle figure professionali specifiche per far sì che venga garantita in ogni momento la sicurezza. Lo che abbiamo fatto è stato adeguare il nostro standard e quindi investire sulle persone che oggi curano tutto quanto il processo legato alla sicurezza, che è una cosa fondamentale, a quelli che sono i parametri europei. Quindi avevamo prima una certificazione di sicurezza che rispondeva ai parametri nazionali, oggi l'abbiamo con parametri internazionali, cosa che ci ha fatto quindi investire sull'organizzazione del lavoro e sulla qualificazione del personale. Il rapporto di fatto rende l'aeroporto di Catania uguale negli standard di sicurezza a tutti gli altri aeroporti europei. Quindi adeguamenti sia infrastrutturali ma anche organizzativi e di procedure che lo rendono sicuramente, non dico più sicuro, lo era già prima, ma sicuramente in linea con tutti gli altri scale. Grazie a tutti.